Siamo sul circuito internazionale d'Abruzzo, io sono con Alfredo De Dominicis, conosciuto come Dedo, uno dei piloti di rally abruzzesi più conosciuti anche sul territorio italiano. In tema alla Barbusha Mercedes SPA, che cosa state facendo effettivamente? Questo è un appuntamento che abbiamo pianificato con Barbusha e fa parte di un progetto molto più vasto dove con la mia scuola di guida sicura facciamo delle giornate per i clienti Barbusha e abbiamo modo di far provare delle auto in condizioni di sicurezza perché siamo all'interno di un circuito e oggi in particolare stiamo provando l'ultimo gioiello di casa Mercedes che è il modello MG della classe A una macchina da 360 cavalli in trazione anteriore che però diventa 4 ruote motrici durante la percorrenza della curva quindi delle doti dinamiche particolari di questa macchina che si possono apprezzare particolarmente in questa situazione Il progetto ha più campi di applicazione. Nella giornata di oggi stiamo facendo provare una macchina molto particolare è un modello sportivo che la Mercedes Italia ci ha messo a disposizione per una giornata e quindi abbiamo in pista, abbiamo una pista presa in esclusiva e quindi sono potenziali clienti che vengono a provare sul campo e non sulla carta una macchina in condizioni ideali con me a fianco e con anche un altro paio di istruttori che mi seguono che riusciamo a evidenziarli quali sono le caratteristiche particolari della macchina per fargliela apprezzare di più In altre occasioni faremo invece dei singoli test drive per i clienti che hanno acquistato l'auto e vogliono fare un corso di guida sicura che ti ricordo che i miei corsi sono rivolti all'utente normale della strada quindi non chi ha belleità agonistiche ma chi usa la macchina tutti i giorni e vuole trovare del benessere nel guidarlo Che tipo di mezzo è? Un mezzo bellissimo, è emozione bellissima puoi guidare a fianco da un pilota che ti dà consigli tecnici è fantastico Signor Barbarossa, un'accelerazione favolosa l'abbiamo vista in test di questa 45 AMG ma com'è fondamentalmente provata l'iPhone? È un'ottima macchina è un'ottima macchina direi tra le piccole forse la migliore in assoluto Qual è l'importanza del provarla e non avere limiti? Beh, è ottimo perché ci sono le vie di fuga e eventuali errori, altri possono benissimo compensare senza pericoli Appena sceso da questa splendida 45 AMG su una pista sul circuito internazionale d'Abruzzo sensazione a caldo Il test di guida è stato bellissimo mi sono molto divertito la macchina è eccezionale, fantastica ha un cambio velocissimo L'importanza tra l'altro di testare una macchina come questa sulla pista Un'altra cosa ma bisogna correre infatti solo in pista Il pensiero che viene dentro la macchina mentre si sta correndo qual è? Di acquistarla subito Se la dovessi consigliare a qualcuno così Compratela, compratela, compratela E questa A45 AMG È bellissima, compratela, compratela, compratela Ringraziamo la società Barbuccia che ci ha invitato ce l'ha fatto provare è in assoluta sicurezza questo è importante Quali sono state le emozioni che hai riscontrato nell'ambito di questa giornata? Abbiamo offerto un prodotto che il cliente riesce ad apprezzare e tutto sommato è una condizione particolare per provare una macchina Come potervi trovare? Contattando sicuramente i commerciali In concessionaria daranno tutte le varie iniziative che noi stiamo pianificando Ne approfitto per dire una particolarmente simpatica che faremo il 9 di febbraio con il marchio Subaru quella volta perché come sai Barbuccia rappresenta sia Mercedes che Subaru e lo faremo su neve e pratitivo una condizione veramente particolare che ho lavorato molto per avere perché le condizioni di neve non sono sempre presenti in Abruzzo Un'altra Losa Racco Un'altra Losa Racco Un'altra Losa Racco Un'altra Losa Racco Un'altra Losa Racco